La lunga notte delle chiese, evento che da nord a sud si è tenuto in tutta Italia nella serata del 10 giugno con 150 luoghi di culto aderenti per un'offerta culturale in orario serale e notturno che ha ospitato appuntamenti di natura varia, ha visto partecipare anche la Diocesi di Gubbio con una serie di iniziative in collaborazione con il Polo Museale Diocesano e l'Associazione Culturale La Medusa. Prima tappa presso la chiesa di San Giuliano in via dei Consoli con la presentazione generale della seconda edizione di Arts Sacra e l'inaugurazione della mostra dedicata ad Elio Cerbella dal titolo Argilla Viva con l'intervento di Ettore Sannipoli e Beatrice Vergari. Fortemente voluta dai figli Paolo e Pierfrancesco, la mostra sarà aperta al pubblico fino al 26 giugno, celebrando un maestro della modellazione, Elio Cerbella, classe 1933, scomparso tre anni fa. Allievo di Leoncillo Leonardi, autore di vasi, anfore e sculture dove fondeva tradizione e novità. A seguire presso la chiesa di Santa Maria al Corso, nuovamente aperta al pubblico, una visita guidata e un concerto per Clavicembalo a cura di Francesca Ferranti. La Lunga Notte delle Chiese è un evento organizzato dall'associazione bellunolanotte.com con la collaborazione delle diocesi partecipanti. Per un giorno le chiese divengono palcoscenico di musica, visite guidate, mostre, teatro, letture, momenti di riflessione e tanto altro. La collaborazione è con le diocesi italiane, i loro vicariati alla cultura, gli uffici di arte sacra, le pastorali giovanili, le molte confessioni religiose.